Torna il Festival Restart, terza edizione, le due precedenti sono state un successo. Quali sono le premesse per l'edizione 2022? Le premesse sono proprio le migliaia di visitatori che nell'edizione 2020 e 2021, nonostante l'emergenza Covid, hanno fatto registrare un successo di pubblico importante. In questo 2022 ci sono tanti luoghi in più rispetto alle precedenti edizioni, aperti fuori orario, potremmo dire. Nelle ore serali Palermo diventa un grande bene culturale che si apre non soltanto ai palermitani e ai siciliani, ma ai tanti turisti che vogliono scoprire dei luoghi anche poco conosciuti. La dico una su tutte, Palazzo Alliata di Pietra Tagliata in via Serra di Falco, quella che fu la dimora del Principe Raniero Alliata, il Principe Mago, attualmente sotto restauro, potrà essere visitata in diverse serate. Ecco, una delle tante chicche di questa edizione. Come regione siciliana, come beni culturali, non potevamo non essere tra i partner di questa iniziativa. Un festival innovativo nato dall'impegno degli amici dei musei siciliani e da DigiTrend che lo organizzano. Quali saranno le novità di questa edizione? Tanti luoghi speciali, teatralizzazioni, casina cinese, Notte delle streghe, Villa Pottino, incontri, terrazza della Batellis con Luca Guadagnino, Marco Betta, Beatrice Morroi e Iano Monaco. Il Petrarca recitato sotto il trionfo della morte, da Stefania Blandeburgo insieme a Beatrice Morroi, I trionfi di Petrarca. Un concorso musicale, conservatorio, soli al Salinas. E al Salinas anche attività per i bambini insieme a Coop Culture che ci apre pure. Corso Botanico con visite esperienziali, olfattive. La stessa cosa la faremo a San Giovanni degli Eremiti con Gianni Gebbia che curerà anche una rassegna qui al Ninfeo di Palazzo Mirto. Una rassegna musicale, insomma tante cose, tante esperienze. Una festa dei beni culturali, uno show dei beni culturali. Anche l'Università di Palermo è coinvolta in questa grande festa dei beni culturali della città? Sì, l'Università di Palermo lo è con Restar fin dall'inizio. L'anno scorso abbiamo lavorato con Bernardo Tortolici con l'Orto Botanico. Quest'anno aggiungiamo lo Steri per le aperture di venerdì e sabato, fine settimana, diciamo, fino al 10 settembre. Siamo molto contenti con il nostro partner, sapete che lo Steri è aperto, ormai la fruizione pubblica è tutti i giorni e ora lo sarà nelle sale dei weekend. Ma partecipiamo anche con un evento nostro che si chiama Metamorfosi. Sì, soffriremo alla città un palinsesto di opere teatrali, di musica e di cinema a partire dal 21 luglio, quindi da dopodomani, per un programma straordinario. Noi crediamo molto come Università nella rete tra le varie istituzioni, enti culturali, soggetti privati, chiunque promuove la cultura a Palermo in modo serio è il nostro partner. Questa è la manifestazione delle manifestazioni, in effetti, perché diciamo che si apre alla città, apriamo alla città i nostri luoghi della cultura, pure nelle ore notturne. Praticamente è molto interessante il fatto che i visitatori hanno la possibilità, nelle ore libere, rispetto alle attività che di giorno uno svolge, come andare a mare, come girare per gli altri luoghi della Sicilia, approfittare le ore notturne, le ore fresche, appunto per visitare i nostri luoghi che sono così attrattivi e interessanti.